Presidente, una serata davvero speciale qui all'Automobile Club Genova, un'occasione per gratificare, per rendere merito ai tanti campioni sociali, ai tanti appassionati. Sì, certo, è una tradizione quella nostra che si ripete tutti gli anni. Facciamo questa serata perché vogliamo dimostrare la nostra vicinanza con tutti coloro che esercitano l'attività motoristica e parliamo sempre tutto l'anno di sicurezza stradale, di giovani, eccetera, ma non ci dimentichiamo che comunque siamo la Federazione Nazionale dello Sport Automobilistico e che quindi abbiamo questo DNA nel sangue e gli sportivi sono tutti praticamente i nostri licenziati e quindi vogliamo poi dare questo riconoscimento ufficiale alla loro attività. Il riconoscimento che va anche alle scuderie, agli organizzatori, a coloro che insomma mettono in moto veramente una straordinaria vitalità nei confronti del mondo dell'auto. Certamente, certamente, quindi non sono solamente i piloti veri e propri, ma tutti coloro che partecipano all'attività sportiva, che forse è meno conosciuta, ma che è altrettanto importante dai cronometristi ai commissari di gara, eccetera, che sono tutti quanti che partecipano e molte volte volontaristicamente, devo dire, molte volte proprio per loro passione partecipano all'attività sportiva, che poi è molto importante, lo sappiamo. 12esima edizione poi di un premio dedicato a uno storico personaggio, per 27 anni Presidente dell'Automobile Club Genova. Abbiamo voluto istituire questo trofeo per ricordare la sua figura, perché era una figura di persona appassionata all'Automobile Club, ha dato molto e quindi noi lo vogliamo ricordare tutti gli anni, attribuendo questo trofeo, che noi chiamiamo di Paolo Lena, intitolato a lui, alle persone che sono, ovviamente, si sono distinte nel campo dello sport automobilistico, ma anche agli amici dell'Automobile Club. premio che quest'anno va? Faccio un'anticipazione, perché ancora non lo sa, all'Avvocato Guarello. È veramente inaspettato e quindi mi ha anche portato una commozione particolare. Devo dire che è un premio a me, ma come simbolo del fatto di tutto quello che ruota intorno allo sport, a questo sport, a questo tipo di eventi, a questo evento in particolare, che è fatto certo di campioni, ma anche di una margina organizzativa, anche dei media, anche di tutti coloro, e che fanno anche presenza istituzionale, che è tutto un insieme che valorizza un mondo fatto di campioni, fatto di esperti, fatto di appassionati, fatto di persone che si sacrificano. E tutto questo insieme viene premiato da questo riconoscimento in memoria di un grandissimo presidente dell'Automobile Club. Oggi hanno pensato a me, ne sono molto gratificato, ma, ripeto, è un simbolo a tutto questo insieme che ruota intorno alle manifestazioni sportive. Non solo agonismo, ma anche amicizia. Io credo che sia una componente essenziale. Cioè c'è la competizione, quindi c'è, come dire, il cercare di primeggiare, ma c'è un senso di appartenenza a un gruppo, a un gruppo di appassionati, a un gruppo di persone che competono nelle regole. Il fair play è molto, molto riconosciuto e, soprattutto, vi è un'aggregazione verso essere insieme affinché il mondo dei motori possa proseguire nelle competizioni, competizioni anche molto interessanti, anche dal punto di vista non solo sociale, ma anche turistico e anche di conoscenza del territorio e di valorizzazione dello stesso. Stato assessore allo sport del Comune di Genova, sei presidente del Consiglio Comunale, ma i tuoi impegni sportivi stanno aumentando, perché da qualche mese sei anche alla guida del Panathron Club Genova 1952. Sì, è un impegno piacevole perché ho modo di conoscere, di frequentare tanti campioni, ma tanti anche dirigenti che supportano i campioni, tante persone che mettono il loro tempo, che è un bene prezioso e la loro competenza, che è altrettanto preziosa, per far sì che gli eventi sportivi continuino a esistere pure in carenze di risorse. I tempi sono duri, gestire e promuovere attività sportive è sempre più complicato. Direttore, quel che colpisce entrando in quella sala è vedere lo straordinario entusiasmo e anche bravura dei vostri soci sportivi, che ancora una volta si sono distinti in campo ligure, nazionale e non solo. Allora, mi lasci sprecare una parola sulla location. Sono veramente contenta di essere riuscita a creare un ambiente che trasmetta, perché io spero sia questo il messaggio che riceve lo sportivo che entra in quella location, che trasmette l'attenzione nei loro confronti, la passione nostra, di tutti i miei collaboratori verso lo sport, e il desiderio di riuscire a dare un senso di calore alla casa degli sportivi. Un senso di calore importante che non riguarda solo gli sportivi, ma anche tutti coloro che collaborano al successo delle vostre manifestazioni. Sì, certo, tutti collaborano. È per tutti questa casa, è per i cronometristi, è per gli ufficiali di gara, è per i radioamatori, è per tutti, perché quella è la casa dove abita lo sport, in senso lato. Tutti coloro che sono a fianco degli sportivi, è anche nostra. Ribadita anche la vicinanza da parte delle istituzioni. Sì, siamo anche di questo molto orgogliosi. È un segnale importante per noi, che le istituzioni accolgano i nostri inviti con entusiasmo e con calore. Entriamo nel mese di aprile. Quali saranno le prossime iniziative dell'Automobile Club Genova? Oh, le prossime iniziative dell'Automobile Club di Genova, nel mese di aprile, direi che forse ci riposiamo, perché veniamo da un mese di marzo, bello impegnativo, però concluderemo sicuramente il mese di aprile con l'assemblea e con la premiazione dei signores della guida. Al centro dell'attenzione è sempre la sicurezza stradale. Al centro dell'attenzione è sempre la sicurezza stradale. C'è in pentola che bolle un progetto molto importante, ma mi riservo di dirlo quando potrò dirlo senza incrociare le dita ogni volta. Credo che questo sia lo sport che più di ogni altro, senza togliere nulla alle altre discipline ovviamente, ma che imponga di ragionare a fondo e di valorizzare il tema delle regole e della sicurezza. E quindi siccome lo sport, io lo ritengo, cerco di dimostrarlo, quello che si può nel sostenere le varie manifestazioni, non sia soltanto sport fino a se stesso, ma sia cultura, sia trasmissione dei valori, credo che questo sia da sottolineare. C'è il fatto che chi organizza, pensiamo ai commissari di gara, pensiamo a tutte le manifestazioni, a tutti i ruoli che ci sono dietro le quinte, siano persone che più di ogni altre mettono in pratica davvero questi valori della sicurezza e cercano di tramandarli a chi fa sport, ma anche a chi lo segue. E quindi sono anche molti ragazzi appassionati, spero che il messaggio arrivi anche a loro. Questa è anche la vicinanza di Regione Liguria per quello che può, a livello anche proprio di budget e di bilanci, stare vicino a queste manifestazioni, pensiamo ovviamente a rally della lanterna, ma non solo. Ci saremo e ovviamente saremo disponibili con Automobile Club per qualunque iniziativa possa toccare anche le scuole per andare avanti sul tema della sicurezza. Il fatto che abbiano voluto a pochi giorni dal dramma che ha toccato in particolare Genova con la scomparsa di Francesca Bonello parlare di sicurezza, di sicurezza sulle strade, di sicurezza anche legate alle gite scolastiche, credo che sia un grande segnale di volontà di andare avanti, di riflettere su tutto quello che si può fare per garantirla. Ma guarda, come tutti gli anni non programmo mai gare, non faccio mai programmi, penso sempre di correre sempre meno, poi alla fine dell'anno si sono viste le gare che ho fatto, non sono state come negli anni d'oro che correvo praticamente tutte le domeniche, ma qualche gara l'abbiamo fatta, ci siamo difesi ancora come risultati, siamo molto soddisfatti comunque dei risultati che abbiamo avuto, e sinceramente la soddisfazione grossa è stata quella di poter usare la Hyundai ufficiale, diciamo, nel 2015, e questo per noi era già un salto poterla portare in gara, poi al di là del risultato che comunque ci soddisfa tanto, perché abbiamo fatto secondi assoluti dietro comunque a Marco Signola, a Rarón della Val d'Aveto, e poter utilizzare una vettura di quel genere, di quel livello, per noi è già stata una soddisfazione questa. Le altre gare, con la nostra piccola aretra, chiamiamola così, come negli anni scorsi, sono state sempre divertenti e ci hanno dato anche lì ragione sui risultati, anche lì una soddisfazione grossa è stata quella di poter vincere il rally delle valli genovesi, che riuscire a vedere il proprio nome nell'albo della gara degli anni prossimi è sicuramente una grossa soddisfazione, perché le gare di casa sono le gare a cui sicuramente ci si tiene sempre di più che a tutte le altre, al di là dei campionati che comunque danno sempre grosse soddisfazioni, però le gare di casa sono quelle a cui ci si tiene sempre di più. Quest'anno non sappiamo cosa fare, se correremo, se non correremo, perché con i bimbi è sempre più difficoltoso, sono un po' di anni che lo diciamo, poi alla fine dei conti abbiamo sempre corso. Mi piacerebbe fare, se dovessimo decidere a fare un lanterna, fare un bel risultato anche lì, da scrivere un nome anche lì nella gara di casa, che non ci siamo ancora riusciti, perché comunque non abbiamo mai partecipato a lanterna con gare, con macchine di un certo livello e mi farebbe piacere questa, una soddisfazione sarebbe proprio quella di riuscire anche lì a scrivere il nostro nome, visto che più o meno alla Val d'Avetto ci siamo riusciti, al Valle Genovese ci siamo riusciti, mancherebbe lanterna, mi piacerebbe questa come soddisfazione, vedremo cosa riusciremo a fare. Con Gianluca Linari abbiamo vinto il campionato del mondo per vetture e produzione, un campionato di cui tra l'altro l'anno scorso si è disputata l'ultima edizione, così abbiamo chiuso proprio l'albo d'oro e la storia di questo tipo di competizioni a livello internazionale. Oltretutto poi ci sono state varie altre partecipazioni di rilievo, come al solito sono stato impegnato sia in Medio Oriente sia nel campionato Asia-Pacifico, quindi è stata una stagione veramente ricca di eventi, più il successo in Italia con Corrado Fontana nell'International Rally Cup, diciamo un 2015 veramente denso di avvenimenti e denso di soddisfazioni. Come si diventa campioni in queste specialità? Tanta dedizione sicuramente, bisogna lavorare sodo, fare tanto lavoro a casa, tanta programmazione, riuscire a far sì che poi in campo gara gli inconvenienti possano essere minimizzati. E poi ci va come sempre ovviamente un pizzico di fortuna, anche riuscire a trovarsi a volte al momento giusto, nel posto giusto, è comunque fondamentale, però bisogna essere in grado di cogliere le occasioni che si presentano. 2016, che anno è? 2016 direi interessante, sono impegnato anche quest'anno su più fronti, in Italia rifaccio l'International Rally Cup con Corrado Fontana, in Medio Oriente ho sempre lo stesso programma con la Federazione del Qatar, e poi con un pilota ucraino Alex Tamrazov faremo un po' di gare internazionali, tra cui anche diverse uscite nel mondiale.